sportivi del canale di youtube è un saluto da fede corragona delle pagine social in questa seconda puntata di poste partite facciamo il punto un commento sul risultati classifica il prossimo turno partiamo subito con i risultati biancavilla san luca 1 a 2 carciovilla di jambison 0 4 cittanovese cileale 0 a 1 poi abbiamo trapani sant'agata rinviata giarre portici 1 a 1 polisportiva santa maria reale avesta 0 a 0 rende cavese 0 a 1 san cadardese paterno 2 a 1 troina la mezzia 2 a 2 andiamo ai commento delle siciliane in particolare biancavilla che esce sconfitto in casa contro il san luca mentre l'altra siciliana il la cireale vince per 1 a 0 in casa della cittanovese ancora l'altra siciliana il giarre che pareggia 1 a 1 con il portici san cadardese paterno 2 a 1 mentre il troina pareggia 2 a 2 con il la mezzia una delle sconformazioni costruite per la vittoria finale del campionato un po' deludente la la classifica delle troina ma questo lo sapevamo dall'inizio di campionato con non appena 8 punti 9 punti di penalizzazione dall'inizio di campionato e andiamo alla classifica gembissone 40 cavese 38 cireale 37 la mezzia 35 paterno 30 polisportiva santa maria 29 licata 27 insieme alla cittanovese poi abbiamo san luca 24 trapani portici san dacata san cadardese 23 punti reale avesso a 20 rente 18 castrovilla di bianca villa 17 e 18 punti troina 9 insieme al giarre l'ultimo posto in classifica una classifica dunque importante per le alcune siciliane vede la cireale che al terzo posto con appena tre punti in vantaggio sulla capolista gembissone la gembissone tre punti avanti dalla terza e due punti avanti dalla seconda cavese mentre il paterno si trova al quinto posto mentre le altre siciliane a parte il troina e giarre alle terzi ultimi posti insieme alle bianca villa e troina e giarre diciamo le altre metà siciliane san cadardese e trapani e lo stesso rigata e sant'acata si trovano nell'altra parte della classifica una classifica molto deludente direi per le alcune siciliane vede il troina l'abbiamo detto sicuramente nelle scoste puntate lo ripetiamo oggi carfano quando ha preso in mano la squadra del troina sapeva i problemi che poteva andare all'incontro di questa campionato di serie di con il troina con punti di penalizzazione prossima giornata la ventunesima giornata di campionato la seconda del girone di ritorno soltanto una la gara rinfiata che quella tra il la cavese e il trapani mentre in questo turno riposa la sci reale andiamo a vedere il quadro completo della giornata si giocherà a mercoledì 2 febbraio ricata biancavilla san lucca castrovillari sant'acata cittanoveste e cavese il trapani rinfiata la cireale riposa come abbiamo detto prima gelbison giarre la mezzia polisportiva santa maria paterno orrente real avessa san gadardese portici troina facciamo un commento alla prossima giornata il derby siciliano tra il licata e le biancavilla che si giocherà allo stadio dino liotta di ligata mentre per le altre siciliane il sant'acata giocherà in casa contro la cittanoveste mentre la cireale riposa come abbiamo detto me prima il giarre avrà vita dura contro la capolista gelbison paterno ospita in casa il rente in cieca di riscarto dopo la sconvitta di oggi san gadardese in in casa dell'avessa mentre il portici ospita il troina dunque ripetiamo che la classifica potrebbe essere riaggiornata nelle prossime settimane non appena la lega comunicherà il le date dei recuperi del campionato tante le partite da disputare abbiamo un elenco davvero molto lungo con almeno sette partite da recuperare in per il trapani il trapani dovrà recuperare la gara con la cittanoveste della coppa italia poi il campionato con la gelbison e poi con real avessa e poi con sandacata e cavese e la coppa italia che si dovrà ancora disputare diciamo che abbiamo terminato questo il commento o a cura del sottoscritto su qui sul nostro canale di youtube chiaramente il prossimo appuntamento è meccole di pomeriggio da partire dalle 17 in poi con commento o classifica e prossimo tutto nel campionato di serie di ricordiamo che questa è la seconda puntata di poste partite a cura di federico ragona giornalista sportivo dunque io vi saluto vi auguro una cordiale buonasera